Nella valle del rio Mascari arrugginisce il vecchio cimentificio della Italcementi. I forni sono spenti da anni e al momento è in funzione solo un piccolo reparto dove si polverizza il cemento prodotto in altri impianti sardi. Vi lavorano 32 operai che oggi però rischiano il licenziamento, dato che l'azienda ha annunciato per fine marzo la chiusura della struttura. Nel 1956 la costruzione dell'impianto venne accolta con grande favore. Incantati dalla possibilità di un forte incremento occupazionale, comuni e privati non esitarono a mettere a disposizione della multinazionale le proprie aree. Con gli anni però le colline del Sassarese diventarono sempre più terra di conquista. Le proprietà di Italcementi, comprese le cave utilizzate per l'estrazione dei materiali, raggiunsero un'estensione di oltre un milione di metri quadrati di superficie. L'agonia dello stabilimento di Scala di Gioca ha avuto un'accelerazione nel 2008, quando il gruppo ha deciso di investire ingenti risorse sull'impianto cagliaritano di Samazzai, abbandonando di fatto il nord dell'isola. La regione ha imposto la bonifica e il risanamento delle aree di cava utilizzate. Italcementi ha presentato dei progetti che però non sembrano soddisfare i comuni di Ossi e Muros. Quando la regione ci ha prospettato l'ipotesi di chiusura di Scala di Gioca, che era all'interno di un protocollo d'intesa, ci era stato assicurato che tutti i lavoratori che erano in forza nello stabilimento sarebbero stati utilizzati fino alla pensione per il ripristino ambientale. Poi invece siamo andati a scoprire che dentro quel protocollo d'intesa c'erano tutta una serie di clausole, però in queste clausole non si parla di ripristino ambientale, di impiego degli operai nel ripristino ambientale, ma di loro trasferimento a Samazzai. I sindacati stanno ancora studiando queste proposte e intanto prendono tempo. Siamo molto critici con l'azienda che non può prescindere da quello che ha preso dal territorio. Per quanto ci riguarda può decidere anche di fare altro, di non fare solo cemento, visto che è un gruppo internazionale, tal cemento, però che si salvaguardino i posti di lavoro e che si mantenga l'occupazione in locco. La trattativa è ancora in corso, ma il futuro dei lavoratori appare sempre più nero.